I deputati regionali della democrazia cristiana Carmelo Pace e Ignazio Abate hanno presentato un'interrogazione all'assessore regionale alla salute Giovanna Volo per chiedere di attivare i necessari correttivi affinché venga garantita ai pazienti affetti da patologie croniche in terapia che necessitano di accedere agli ambulatori la continuità dell'erogazione di farmaci, presidi e dispositivi sanitari salvavita. Le agende per prenotare visite specialistiche ed erogazioni dei piani terapeutici di farmaci e presidi salvavita risultano complete per gran parte degli ambulatori territoriali fino alla fine del 2023. E i pazienti affetti da patologie croniche non riescono a causa del blocco delle disponibilità a prenotare la visita necessaria ad assicurare loro continuità nell'erogazione dei presidi salvavita necessari dichiarano i due deputati regionali. In particolare le prenotazioni delle visite diabetologiche nel distretto di Sciacca risultano bloccate per la saturazione delle disponibilità fino a tutto il 2023. E le persone affette da diabete di tipo 1 sono obbligate ogni anno o ogni sei mesi a rinnovare il piano terapeutico affinché vengano prescritti dispositivi salvavita come microinfusore o sensore per la lettura costante della glicemia. E questo ad oggi può avvenire solamente con una visita diabetologica effettuata presso una struttura pubblica il che presuppone la prenotazione della visita tramite CUP. A ciò concludono Pace e Abbate nell'interrogazione si aggiunge che la situazione ambulatoriale di Sciacca avendo bloccato l'agenda per l'intero 2023 non consente la prenotazione di conseguenza può avvenire meno la possibilità di rinnovo del piano terapeutico e il conseguente utilizzo in continuità dei dispositivi salvavita. Una situazione insostenibile concludono Pace e Abbate ecco perché chiediamo al governo regionale di attivare i necessari correttivi. La salute non ammette ritardi.